Votare il 7 maggio le liste della Will Scuola vuol dire sostenere le nostre scelte a tutela di tutto il personale della scuola. Contratto, autonomia differenziata, stabilizzazione dei precari, valorizzazione del personale ATA, sono alcuni dei temi alla base delle nostre rivendicazioni portate avanti nel tempo con convinzione e coerenza. I contratti di lavoro e sulla mobilità si firmano solo se sono migliorativi e gli ultimi contratti non lo sono, per questo la Will Scuola con decisione dopo una lunga consultazione con i propri iscritti e non iscritti ha deciso di non firmare. La scuola è una, libera, laica, statale e il motivo per cui siamo fortemente schierati contro ogni forma di regionalizzazione del nostro sistema scolastico, oltre 100.000 di firme raccolte contro l'autonomia differenziata. Siamo impegnati sul fronte del precariato, convinti che la continuità didattica agli alunni, compresi quelli con disabilità, si garantisce solo con la stabilizzazione di tutti i supplenti oggi in servizio, più di 250.000, anche con la trasformazione dei posti al 30 giugno e 31 agosto e utilizzando tutti i docenti presenti nelle graduatorie, da quelle dei concorsi alle GPS di prima e di seconda fascia. Ridare dignità e valore a tutto il personale è per noi la priorità. Il 7 maggio vota, vota Will Scuola, scegli la coerenza.